Attenzione prima, quasi le quattro, notizia straordinaria, edizione straordinaria, c'è lo stirato, neviolo o nevielo stirato, la preferenza, che ha detto che caccia fuori la fresca, vediamo se sta chiacchierando come sempre o parla a segnavento. No, adesso c'è il vetro, non devi battere, caccia la fresca sul tavolo, pesante. Andarla a cercare, cerca, la trova. Porca la cacchina, non c'è prezzo, Filippo non c'è prezzo. E qua c'è tutto in tasca, guarda qua. Ma che roba? Che paccato, vergogna, ce l'ha paccato. Con questa cosa fai la bottiglia, caccia. Spendi, povero. Mi tengo io adesso cecola. Hai fatto tutta una scena, eh? 30 euro. 30, no, 30 euro, 30 euro. Posso fare una bottiglia di acqua gasata? Sì, sì, puoi fare una bella bottiglia. Magno. Magno, Magno, Magno. Poverty, poverty.